Ok, felice tardi e felice gente per i nostri romani in Corso e felice tardi per i nostri romani qui in Olanda. Abbiamo messo il nostro tempo nell'estudio di Babel, virtuale, in questo modo possiamo share per qualche persona che non è ancora un'attività, che non è ancora un'attività per un'attività importante qui. E se miro che Dio in ultimo tempo qui sta facendo il suo lato di esforzo, per andare a fare più e più gente per stimare, più gente per comprare, e finalmente accettare come salvador per me che Dio sarà il tempo di approvazione. Sabe che Dio realmente lo stimano, lo stimano il mondo, e così tanto che il nostro nostro unico Io, e così ci vogliono avere un'attività eternale. E tanto Dio desea per noi, e così ci vogliono avere un'attività, e così ci vogliono avere un'attività per noi. e così ci vogliono avere un'attività per noi, e così ci vogliono avere un'attività per noi, e così ci vogliono avere un'attività per noi. e così ci vogliono avere un'attività per noi, 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 e quindi ci vogliono avere un'attività per noi, che è la parte importante che la speranza di perdono. La speranza di perdono è un'attività pessima importante per quello che sta adeguate e da sezione, e ci vogliono avere un'attività per noi che ci vogliono. E il paz di perdono. Grazie a tutti. 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 a... 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 determinato abbandonare pica sono piccato piense suprimento dolor morto tristeza e c'è te realità e allora non si analizzano non non si applica a meno conosco migra con piccata malo se vuoi non si convence che cosa è malo vuoi non ti abandone e allora non si applica a meno conosco migra con piccata malo che ora conosco che fuori nel nostro corazzo non non c'è un cambio della nostra vita ora mi miro sui gravidà ora mi miro che sta malo ora mi miro decidì per abandone però mentre non realizzare che sta malo non ti abandone ora mi realizzare che sta malo ora ti un cambio della nostra vita caminano a cristo pagina 21 e dios decidimos che noi il arrepentimento verdadero sta sicuramente da riconoscere su messa maldata sin engaio né poccia mi te volvi ripetire sa qui il arrepentimento verdadero sta sicuramente da riconoscere su messa maldata sin engaio né poccia qui con dios che mostrano se città ma sono ovvio che non sto cometer errore non cometer falla non in vez di non si riconoscere con nostra falla con nostra pecca con nostra pecca non sta buscare pretexto non justificazione patata e cose bofica non ti abandone non ti abandone non ti abandone so come si riconoscere con questa maniera e poi le pubblicano con non arrisco alza suo uova in cielo lo è vista dios mi misericordia un pecador lucas 18-13 e sembra conoscere non falta lo tar justificar ma somma il Signore della Sousa presenta la sanga a favore dei al Wella arrebentino che mi ha detto orata giustificato perché è ragazzo il Signore della Sousa il signore della Pavo il pecador del Le Cazzo ora e non se chiede sia in casa sa le cara nel viola ad esempio è la riconoscere su culpabilità quindi il Signore deve essere ricordato di E e sta con riconoscere non falta lotare non falta lotare justificare Dio sta justificando il primo messaggio di Yahweh sta per noi pensare per noi arrivare alla realtà ora noi stiamo confrontando noi stiamo in maniera temore di riconoscere la verità come è fraia quindi noi stiamo in maniera di riconoscere la verità di Dio sta per noi Dio sta per noi ora vorrei riconoscere con sincerità vorrei riconoscere la verità di Dio e ora noi stiamo in maniera delante signor dimostrano la natura è stata a arrepentire veramente di non pica e a aceptare la fede e la sangra di Cristo come il suo sacrificio expiatorio per noi stiamo in maniera delante di non delante di non con un'alliega di ta parte di eustizia di Cristo e non caratter che den armonia con la lei di Dio non picanan lo sta quitar e non mi stiamo in maniera e non mi stiamo in maniera e non mi stiamo in maniera per ricevere la vita eterna come Juan 1.9 come Juan 1.9 e non mi stiamo in maniera 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 in maniera e non mi stiamo in maniera per comunione per tenere con Dio per crescere il conoscimento di Dio e per rivela su messa di un anno non mi stiamo in maniera Gli Per purificare la nostra vita. Dio si è da cada uno di noi. E ora non si è analizzato la Palabra di Dio. E' la Pisa. Està con non humillare l'alma delante di Dio. Reconociendo l'alma di Dio. Non cumplo. Non cumplo. Ainda con le promete condizioni di acceptazione. Que me dì? Està con non humillare l'alma di Dio. Dio, riconosciendo l'alma di Dio. Non cumplo. Ainda con le promete condizioni di acceptazione. Se non. Non ha esperanza. E' arrepentimento. E' arrepentimento. E' di qua. Niu'iende. Mestere lamentare. Con le ha si è. Se non. Non confesare. Non spicanare. E' verda. Un'alma di Dio. E' alma di Dio. E' alma di Dio. E' alma di Dio. E' alma di Dio. Odiandone. Nus maldad. Nunca. No. Nus nunca. A busca verdaderamente. E' por don di nos picanan. Nus a busca. Nunca nos ha recebi. E' paz di Dio. E' alma di Dio. E' alma di Dio. E' alma di Dio. E' alma di Dio. cosa che Dio ha indicato. E' alma di Dio. E Dio. seguimos che nos confesione tra le opportunità per expresar il riconoscimento di conosco in mestre di pocdon la presenza no si confesa mi te reconoce come ti misteri pocdon che tipo di beneficio dios dar in cibi conosco infesione che tipo di beneficio dios dar in cibi conosco infesione ninguno però la confesione capa non si mira e reconoce non è dependenza di dios non è dependenza di jesus mi amico da dios te amandone non arrepentimento e convertimento sincero è deciso la denuncia da un insomma segun con dios e papi a nabu cura solo a ui dalle passo sapi dalle passo segun scrittura segun la parola per non succedere un po' aia e si vipo don perdere il foglio dios jesus sta bene bene e pronto tu costa indicare quel mondo qui deve terminare però dios sta facendo un trovo sumamente especial ora qui per tratare di riscattare tu che può riscattare la presenza di noi confesione per lo tanto tal è il risultato di comprendere noi condizioni mali e noi dependenza di dios per solucionare i nostri problemi di picar e donare i nostri perdoni che ti chiede a alcanza per il morto di aiuto di dios jesucristo jesus sta facendo un po' aia e inocente e la vai calvario pa bo picana pa mi picana come un dios por giudano a ui poi palabra naki pochettano meditazione durante di aki che darai denos memoria pa nos cada uno venina verdadero arrepentimento e comportimento pa non si può ricevere por don for di noi senhores cristo coi paz di dios descansare per noi e benedicino a cada uno con la scucia con la mira e la canos ban e besa qui na aia son jesus sabine che proposte a salva a cada uno di noi pa donare i nostri perdoni verdadero e te lamte inocente pa guarda e sacrifica pa non spicana poi paz di dios descansare per noi amè non si grazie romano polonias minsa si ti romano che ti observazione pregunta va sa arribe tema aki toa non si può bisese aii quara share tema che non che non si arriva youtube viva il canale lo scriviamo di speranza di youtube è tema che non si ora share vittura vittura conoscina vissone minuscadume se comprende in verità e lo qual che nostro romano polonias explica voi di arrepentimento verdadeiro e lo che dios davvero di nos e lo che dios ha sinà nos favore non romano sino ti non si era di orazione buon tardi a me ti un pari pregunta numero uno chi cota bata e sacerdote la gana smisa ora bo confesa se che bota tinko vai confesa ante ori e naga nos vis e pecador kuk confesa suplica età tinko bincu su bestia età tinko mate enano andò confesa suplica se que sacerdote pensase dote vai pader vai a dill a grose visadil o jesus pecador suplica epidemina comprande bombom no lo que cota e pecador mister reconno se confesa suplica liber lanchi lanchi inocente travala para elante verdadero e unico mediador conostini para nos confessar nos picanan na jesus antres sacerdote ya e momento eta bala toma responsabilidade epicana vai con medilano santuario terrenal e anche gli abona elante nostre confezione sti che da realità mira na cristo passiamo a team tempo che teoria del mondo anche quando si era nasa che dote non conosco sono bua vai erano che si dote lampa confessano spicarano sei che sai se dote la nota verdad non si nel santuario esternale la linea che era per il pecatore che era inocente e che era per confessare e che era per sacrificare e che era per Cristo Jesus e che era per il sangue e ora il sacerdote ha tommo questa responsabilità e non spiegare e non è per l'anima è stato comproviato ok e sei che me ne è pecatore che conta è sacerdote su piccana è che me è l'amma che era per representare è Cristo Jesus e mi saia confessare su piccana e come te hai lasciato che me l'amma che era per Cristo è sacerdote è per representare è per tomar responsabilità di piccana nel santuario se è l'amma che non può vai conne però è stata parla che andano nella l'ora di Cristo e momento ok quindi per comproviare l'amma che non spiegare è pecatore che non spiegare è maricilante è l'amma che è l'amma che non spiegare ma gana ma horta è l'amma che è la confessa piccana è l'amma che deve representare a Cristo è sacerdote è l'amma che non spiegare 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 che è morto, non è sacerdote, ma amico, confesando, arrepintendo, in teore mi passa e mi picca, ovvero ieri rivelamci, ti rivelamci, ti rivelamci, ti rivelamci, ti rivelamci, ti rivelamci per amico, a peco, normalmente in polonese questo texto, pago di piccata morto, ma è don di grazia la vita eterna di Cristo Jesus, ma a me mi si mori, passi una peca, però l'amico si mori nella mia loca, quindi amare la vita eterna, a me da mia vita, dove chiede l'amico inocente di rappresentare Cristo, che ti rivelamci, ti rivelamci, ti rivelamci, ti rivelamci, ti rivelamci, esatto ok, questa è la prossima, la prossima domanda, piccata così e poi usano un pretexto, che ci dice, per esempio, per esempio, una trabola, c'è un collega che ci dice che ci dice che è vero, o in suo carattere c'è qualcosa che è irritabile, quindi si lasco, per esempio ... ... ci si lo stanno all'interno ci dice, per esempio, se ci dice, ma si buona come si aloco e ci dice che ci dice, che non si buona a fare l'amico inoltre, e la gravity che si può bere, boona a fare l'amico inoltre, è un po' di inoltre per andare l'amico inoltre, è qualcosa che non è inconsciente, Ok. Ok, qua, se mi ti comprende, se mi ti comprende, vale un'explicazione. Qua, ora è preba benibili a noi, non ti paano scai. Ovi bebi a Dio sta permiti e preba ieri a noi, che secondo noi, ma non sa come con Dio, ma non sa come con Dio, ma non sa come con Dio, ma non sa come con Dio. Non sa come con Dio, ma non sa come con Cia ma non sa come con Dio. Ma non sa come con Dio. per esempio quando la terra mi è quando la terra mi c'è ora mi vai massimo a Dio di Dio mi danno e fortalece e potere per vedere per esempio il risultato delante di Cristo e quindi quando la terra mi è esclamata a Dio non sa come esclamata se accoste a Dio mi ti vai con esclamata a Cristo visse a Jesus e su teccio secondo non si sa come esclamata vai a esclamata visse a Jesus e su teccio a te vai experienciare la realtà con esclamata di una vita ora che mi arriva va a passare di tal maniera sin attraverso a Dio mi si sa come esclamata si 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 da me esclamata ahm a vostel ahm va a pidi pordo a che non si sa non si sa mi ti un'ende ecce un'forbiltà mi ti gusta ganja e di un'ende o femmini mi ti ho artà ok ando ma ha si è cos ma sai despes bo consensi da manèbisabu che cosa non è buon sai ok la tua papi è nabu ahm Sì. e se volete sempre, qui è che uno staggiatore è un altro e ora è un po' importante che volessi bene, poter volessi bene, poter volessi bene e poter volessi bene le cose si, quindi cosa faccia se stessi così, secondo voi non si segui a tenere comunione con dios, ora vorrei realizzare, poter arrepentire sinceramente, poter arrepentire e pari io allora un cammino che Gesù sa vissà per non spiegare a Dio un cuento di signo secondo voi mi sento più chiaro cosa succede? secondo voi prendere più e più a Dio è un processo di crescimento quindi secondo voi non sapete di più voi venite con la victoria e libertà di lui ovunque mi guarda come fa e dana riconoscevo fatta pide perdonare Dio sta perdenando ma non è disposto per seguirlo però se un altro può venire se voi mi sentire a Slep confesare che cosa passa? vittoriosamente secondo voi il crescemento di Cristo non sta con la victoria quindi la independenza di Dio si 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 è un processo non 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 è un processo di santificazione la nostra naturalezza è molto male quindi il conoscemento di Dio della vita eterna è un processo che non c'è da crescere nel conoscemento di grazia di Dio ma di tutto cosa come con Cristo viene e non lo guarda sia quindi se la mente non può cair più certo non non fino a qui ma no va Dio Conoce Dio 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 Sb presente non con Sincere di nostra si ok un prego buon dia buon dia buon dia buon dia di con un genio di Dio di con un genio di Dio di con un genio di Dio di Dio di Dio si ah ma ma si to ma la 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 No stavo a descoperire con la justicia di Cristo Nostra canna con Jesus Cada dia Nostra manterne comunione con Dios Cada dia Cada dia Rivali con la condizione che ci sta Cada dia Nostra vita Nostra un di noi Personalmente La dor di crescere conoscimento e grazia di dios diariamente non stai a conoscimento di gravidà di maldà di non sei non stai conoscere di più di diosida non spano super victoria quando diostra dura non si può del patrino scuole victoria però è un processo è un processo mentre non stai vivendo la carattera qui non stai chiede del processo da pensare di salvo non non posso precisare di quanto è un'altra vita vista è un'altra caccia via l'antà non ponencii mi senta sincero con dios diariamente si si è che meno messi sincero una vez con nostri dios non porta pecador ma ora mi ha detto io di mia vita io di dios 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 mi da come sacana con dios tenendo a cuenta che da un processo non stai che da cana del processo di santificazione e seno danificato meno possibili nota bimba ok 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 la Biblioteca è la victoria, ma se voi sapete, risulta farà come nostro abogato, quando avisa, è costa che guarda scrivere per voi, per voi non si pica, ma se qualcuno di voi comete pica, non c'è un abogato che si tratta di dire, questo Cristo è lui. E se pica non è un hábito. Vivendo con la realtà, la ponenza sta sincero. Se mi faia, riconoscere come faia, non c'è una maniera da tapare e pica, non c'è una cosa. E non c'è un problema così. Ok, ok. Se mi faia, riconoscere come faia e non, Dio sta aiutando. Però se mi non c'è una maniera da tapare e pica, non c'è una maniera da tapare e pica, non c'è una maniera da tapare e pica. Esatto, guarda, analizzando la vita del cristianismo biblicamente, è ponenza di nanta sincerità per Dio, per insomma tutto che faia. Mi nota biblicamente per me faia. E non c'è una maniera da tapare e pica, non c'è una maniera da tapare e pica. Non c'è una maniera da tapare e pica, non c'è una maniera da tapare e pica, non c'è una maniera da tapare e pica. Sì, con Gesù. Però è uguale come cristiano. Come le amano, a questo punto, come cristiano mi sta pecando. Mi por peca, poi io mi po' slip. La mia usa la parola mi po' slip, però non che mi sta un habito, un poco mi sta praticando, un poco per stare. E perché non mi sta andando corretto, ma slip. pedir perdone sinceramente segui con Jesus ma è una domanda ma è una domanda ma è una domanda non è una posizione ma è una domanda tendo il pensamento che è un peccatore che mi ha detto come è un peccatore perché non è un carattere cristiano io è un punto che mi è un peccatore mi è un peccatore mi è un peccatore di cui mi è un peccatore di Dio per un giorno di Dio mi non sta peccando mi sta sentendo che mi sta peccando però mentalmente non sta peccando mi è un peccatore di Dio ma è un peccatore con Cristo come è un peccatore io è un peccatore io sto con Dio io sto con Dio io sto con Dio io sto con Dio il Spirito di Dio è un peccatore che sta peccando il nostro noi stiamo con te errore non stiamo con te fai non stiamo con te fai non stiamo con la mentalità stiamo con te fai ora mi non sta con te c'è Cristo mi sta viva viva vai no ma però ora si sta senta e costa viva è un peccatore è un peccatore mi sta cambia mi sta cambia quindi mi sta con te c'è Cristo quindi mi sta con te c'è Cristo mi sta con te c'è mi mese cada dia mi sta con te c'è mi mese mi mese non stiamo con te c'è assina tanto errore di compa sono mi naturalezza di naturalezza non sta bu quindi se come mi da la clarità di mie condizioni diariamente mi sta con te c'è mi sta con te c'è il Signore il suo poder il suo fortalezza amè è un peccatore Gesù sta venendo nel mondo qui non salva di noi picano non di noi picano che mi sta donando il suo poder il suo fortalezza è un peccatore è un peccatore cristiano è un peccatore è un peccatore che si può portare non si può applicare deliberatamente e se è un errore è vero che persone quali pentì non sta pratica applicare deliberatamente ma è un peccatore che è un cristiano non sta pratica abitamente peccatore che è un peccatore deliberatamente ma che cosa passa realizzata ora ma poi applicare deliberatamente io sto faccio personalmente è un peccatore di assiettore, è il vostro idiota proprio per creare con noi, mentre non realizzate qualcosa che è male, non può abbandonare, è che è da un piccolo, ora può realizzare che è male, può abbandonare. La ipademia è molto curioso, non ha gotto, questo è quello che gli cazzi spiego nella Р sido Scusi, questo è vero, credo e è utilità aiutamati, som la riuscinca, Ari. Ho evitato, aveну amm onuna sola, també è una differenza. lass inst ace curiousekeit, s resources e non rende guesce per raggi corezza. Rebecca, questa tentazione di spesso che si è diventata, è diventata. E' un'altra salita pica. Non è una tentazione di pica? No. Ah, ma tu non pica? È un mio mio, ma è un mio proposito. Io ti permetti ai ragazzi, con un proposito. E con il mio male, mi stai guardando vencendo. È una debilità che mi seguo è victoria. Beremmi il mio 3 La mia domanda, il nome glaci, ho i e ho qualche tempo. Il mando a te accesso. Si ti l Gregorio. Glacus questo? No si te non ci ho dettoы di me dovuto. Voi il mio meno! anche meno si pica ma secca di dios no star massima e come to me mi messi was malo mentre sclamano dios per lindia mi ordnami ora nostra guarda è angustia quando sembra passare di angostia di Yacob E' questo è il nostro inimigo che non sta accusando La pieta costantemente con noi Certo E' questo punto che è importante E' questa tendenza che il Romano Polonezi ha avuto una loro a di queste rieza il pordono chiedere di Dio scorto E' questo tipo di un'banda è il concepto ma di un'altra banda e ti spiega ma non è Polonezi ho explicato qui ma cerca di Dio, tutti i giorni, ma si ma cerca, la lucia di Dio, se non si arriva a Moisés, Dio diceva che non mi guarda, non mi guarda, non mi guarda, non mi guarda. Ma cerca di Dio, non mi guarda, 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 non mi guarda. Ma andò, ma a me transforma, sai che una corruzione corruptibale e non una corruzione corruptibale. Poi ven claw, non mi guarda, ma a me riuscite. Ma anche io ho 3 conclamenti. E' un testo più di me guardare, ma più di cose che tu guarda, ma in più mi guarda, ma anche... Ma in più mi guarda, non mi guarda, non mi guarda, ma in più mi guarda. Non mi guarda, non mi guarda che non mi guarda, non mi guarda, ma in più, non mi guarda, ma in teoria finalmente il nemico ti vincevo. Se vuoi te pidi, io volevo te chiedere, volevo te chiedere. Non ti chiedere, non ti chiedere, non ti chiedere, non ti chiedere. Ecco, c'è una battaglia, ma non è una mano, vai te vissi, è vita cristiana, devo che il ministerio di curazione, è vissi, è vita cristiana, una battaglia e una marcha. Teoria non ti chiedere. Si, non è. Però non ti chiedere, non ti chiedere. Ma anche se vuoi te senti, a circa di questo al Signor, mostrami i miei condizioni, trasformami, anche se vuoi te senti. Dio te rivela. Noi, ogni giorno non ti chiedere, ma non ti chiedere. Si. Non ci chiedere, non ti chiedere, non ti chiedere. Non ti chiedere, non ti chiedere. come di bel ok ammettino ma anche l'acmasse guonta e manacca in però ma so l'ammo l'accusa bassi al voto un mene no come scopo cerca di pd dispensa e perdone back for me come come in secas dios a buco diosmi spodile epica e è stato di cielo che ti chiede la roba presente vai riconosiliare e vinti come voi presenta questo è il passo che non si chiede ma non è il passo che non è il passo ma è la mia vita è la persona quindi se non è il passo ma non è il passo che non è il passo ma non è il passo di Dio ma non è il passo ma non è il passo secondo le parole ok, è il passo Amen Siamo, grazie Siamo, grazie io ci usavo di l'anno per presentare un espertamento e non ci dai voi Tu mi è così, la chiamerità Io ci sono noi io ci sono ci sono noi ogni giorno io ci sono ci sono il nostro 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 conosciutto il nostro conosciutto di Dio la vita eterna di Cristo in Cristo Grazie a tutti, abbiamo un po' di domenica, abbiamo un po' di domenica. Sì, è vero, è vero. Grazie a tutti. 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 grazie 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 io non faccio una falla inizia o no? no! tu hai fatto capire di Dio per farlo per esempio, ora va bene io avevo il costumbre di essere e qui con Dio qui con Dio se chiama ora con Dio a circa Dio qui con Dio dice va a considerare la mia vita io un hombre recto e perfetto un hombre justo lo vedete però, essendo giusto essendo recto essendo perfetto tu dia dava da reza tu dia dava da reza tu dia dava da reza e, e, e non è vista, e ofrenda che dava da treze la ofrenda va per Dio 10, 10 ma non abbiamo sì questo che aveva è sempre nascostato è sempre nascosto è epoca sono nascostato anti ci hai десяte è sempre hanno nella situazione nella situazione noi abbiamo ansi che abbiamo cal物 contene non ti senti, ma compreste che il testo e quello che dice Dio, perché non è necessario che bisognava avere bisogno di riuscire. E' proprio la verità, ma mi dice che comprende i concepti che non ci stanno peccando, ma sempre quando hai fatto una cosa che Dio ti mostro il rischio di peccar. Perciò come se ha visto che la vita non sovrapposte, la vita non sovrapposte, però la vita non sovrapposte. E' purificare il carattere. E' carattere più e non sovrapposte. Seguro sì. Con il carattere è cambiato. guardando il mio carattere, non mi sembrava, non mi sembrava, ma non mi sembrava, ma non mi sembrava io ho fatto un cambio di noi io ho visto come un auto che dà tutto l'osso io ho detto che è meccanico io ho spettato, un sacasla io ho messo il coberto nel luogo grise io ho fatto un po' dios un sacasla noi questo è una buona domanda ma non sei per quanto riguarda la vostra un buon per esclare qui c'è una buona domanda a me sembrava a me sembrava a me sembrava a me sembrava un microfono a me sembrava a me sembrava a me sembrava come qua bai come qua come qua questo è un buon mutuo ok ok è una cosa è una cosa non è una cosa ok è una cosa è una cosa è una cosa la mia un certo la mia è un certo si è un certo non è un certo ognuno se non è un altro ognuno è un certo si, si, no, lo che mi chiede, che voglio considerare che una vita così, tutto l'osso, quindi Dio non è un processo di santificazione, è sacando slavino, armonos, bec, e se il giorno finale, è un'ultima, è un'ultima, è un'ercizio, 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 sì, sicur, 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 sicur Pablo è un'ercizio, sicur se è un corintio, dieci, let me just check, let's just check the names, come and explain, come and explain, here, un corintio, e quindi abbiamo visto un corinthio, ora ancora qui, vediamo che versi che abbiamo fatto, non, ma qui un altro, ok, abbiamo visto, un corinthio non è 10, 21, si, il flamico è 22, e se si dice che su un corinthio vuole, perchè questo corinthio vuole, non è sicuro, se si chiede un sangue non è altamente per l'allcanza, ma è chiusura, se potessi con un corinthio, ma è difficile per l'allcanza, quindi abbiamo visto il corinthio di Pabllo e che non è altissimo, se si, se Pabllo considera la vita cristiana come un atleta, si, si, si ti dice che il finale è come un box un box 2 e mi dice, bringa te nel finale per non succedere ora che finalmente mi cabe predicar, se tu mi mi vado a disqualificar è stato un dolore, vero? si però Pablo dice non che Pablo non sta pecando conscientemente express non c'è nessuno però cosa può succedere? si, si ancora diosti un cavo e quita due o tre cofie buon salto diosti mostrare tutti i giorni di nuovo tutti i giorni di nuovo, si io non ho mai visto io, è chiaro, tutti i giorni è un peccatore ah, è buono no, questa è hermana va a visare a noi per copia e noi per copia e patronti quando cristo per noi non possiamo ugualare e patronti per noi copia per noi 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 mi sta manessus mi sta manessus mi sta spera che mi ti ho capito un problema che abbiamo discutito che magari pensi che mentalmente non sta peccato ma mi ti ho pensato che mentalmente non sta cumplendo che pica non sta cooperando che pica ora pensi che d'oro non sta cooperando che pica se pica e mente pensa e sta limpi si si mi sta comprendendo questo pensamento però è un poco peligroso se pensi che sto che sto facendo non mi ti ho pensato non mi 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 ho pensato che ci il non si si Sì, sì. Ma è costa nonostante di contemplare a Gesù. Sì, quindi, contemplando Gesù, nonostante mirare il fatto di noi, come un essere umano. E costa nonostante, 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 nonostante. Nonostante, nonostante, nonostante. Nonostante, nonostante, nonostante. Nonostante, nonostante. Ma è separato Gesù. Sì, è vero. Sì. 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 Sì, ma'è, zero. Sì. 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 Sìシ. in questa situazione mi immaginiamo in una reza di una mese Papi con Dio, voi pensi che se Dio non mi libera, ma non è bene. Ma non è bene, sì. Per questo momento in cui ho orato, non c'è una reza. Sì, sì, sì. Quindi se non mi mori, non mi senti a dire il Signore se avessi un errore in Kikuta per me perdonare, oppure il coraggio del cuore. Sì, sì, sì. Per ogni prova che Dio ci permette per capire un po' di nostra vita, un po' di nostra vita. Un po' di nostra vita. Sì, c'è un po' di Dio ci permette di noi. E così, mentre la prova non arriva bene, se non arriva bene e bene, Sì, quando arriva bene, quando arriva bene, ma ci si chiedi che se è bene, e se non è bene, se non si è bene, se ti accetere uno, ma non è bene, ora qui guarda c'è un punto importante il diablo tra le tentazioni dios ma il diablo tra le tentazioni ma il dios ma il dios usa le tentazioni di quello diablo che ha fatto per la bendizione per esempio per esempio se se non si non non si non si 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 il mio amico viene con l'alcol io gli ho detto no ma il mio amico riuscimo a me il mio amico il mio amico il mio amico deve essere preso ma il mio amico vai riuscire per crescere non solo non riuscire con l'alcol ma va a vincere ma è importante ma è un amico ma è un amico che è un amico e mi ha detto ma è un amico ma è un amico ma è un amico ma è un amico va a vincere va aiuto un amico ma è un amico e si senti la necessità di Cristo in ogni momento ma è un amico 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 perché non ci pensavi ma pure ma è un amico ma è un amico ma è un amico ma è un amico ci pensavo ma è un amico la città e 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 la città l'alcool è differente da ogni persona, quindi tu rendi anche la città se io, l'alcool è agressivo, quindi ora mi bebe, in casa, la città e 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 la città di più di talcotta, finalmente l'alcool è è IRS, ma la città, questa è la città, la e la città della città e la città è fantastica, quindi avesso vedi l'alcool, l'alcool, quindi le matiamo ora quando vieni, l'opinione e l'opinione, lo bebe e il tempo m'è, non lo simile ma il tempo, non lo so, e poi il doctor va dire che il dolore e il dolore, non lo so se non si vuole, lo so, non lo so non lo so, non lo so, non lo so non lo so, non lo so, non lo so, il alcoolo non è per consumare se pòr serve per altra cosa, ma non pòr bebele come te c'è ma, dalle, senti a te c'è ma ho una domanda, mi puoi assicurare? si, si, no, mi ti mi puoi scrivere con voi, sa, well epica di fornicazione mi nota a am ha si è mas si epica di mentira mi nota a si è mas epica di cada cosa che ti pica mi nota a si mas di si demmi mes ame sa bisa cu non è non sa qui che ti pica ame si sa come a sto a poco non anto ora come pobisa ame mi nota a un pecador mi nota pecador mas anto mi nota che nel punto è che mi nota che non si è pica anto pa e la capi viaja non è fornicamento è quibriamo il matrimonio è sabato è mi nota che non si è mi nota che non si è non si è ma 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 anche se si tratta di un'attività che non è corretto, non è buono, ma è così, non è buono, non è buono, ma anche se si tratta di un'attività, non è buono. Quindi, se tratta di un'attività, non è buono, non è buono? Sì, sì. E come deve essere una cosa. C'è un carattere, c'è un carattere. Per esempio, un matrimonio. Per esempio, non è solo un matrimonio. Per esempio, non è un matrimonio. E poi, un carattere. Il nostro è un carattere. E quando gli stiamo, non ha detto, come ho rispondo? Come ho rispondo. Non è vero, ma rispondo è vero. Sì, sì, sì. Si mi rispondo in questo modo, non ci sono. Vi sono riusciti in cucina, e ci sono in cucina. E poi non è riuscita. E poi si è cambiato. che ho fatto motivo per questo tutto il giorno questo è quello che ho arrivato perché non c'è un cammino della nostra vita con noi abbiamo visto che siamo arrivati questo è ora sì non è ora, non è ora, non è il giorno di Gesù, non è il giorno di domani sì, sì sì, adesso è tutto il giorno non è il giorno di Gesù, non è il giorno di domani, non è il giorno di domani peccatore arrepentì sì e non stai come stai a chiedere di Dio perdonare tutti i giorni e si è un sentiero sì, io ti sento che non mi stai a chiedere di Dio, io ti sento a chiedere di Dio, io ti sento a chiedere di Dio, io ti sento a chiedere di Dio, ma stai e sempre che Dio ti sento a chiedere di Dio, a chiedere di Dio, ma stai a chiedere di Dio, io ti sento a chiedere di Dio, ma stai a chiedere di Dio, e hai questa parte di Dio è un carattere di Dio, sì sì di un carattere di Dio, è un fallo di Dio, per ciò è un piccolo un diccio portavo con un cristiano voi che sei che e non rispondevo voi me lo viste è cristiano ora voi mencione cristiano è piccato è piccato che è la chieda sin rivela a Dio suo amor sua misericordia ma di altre parole non ha dono a Dio's gloria non è piccato per esempio Moises io sono un papi che è barata Moises ha rivela perché è stato un giorno la più humilde per la vita però a pesar di essere humilde il po' diablo che è instigato il po' diablo ha rivela immaginare come è la rivela e invece il papi che è barata che lo fa? è la dalle e qui Dio's dice Moises con Aaron e dice per la sombra vanno a glorificarmi di un vice di un pobo e poi lo vanno a drenta il canale terrenale inanna quindi la falta di Dio's gloria qui che è? piccato piccato sì è piccato quindi mi ti un copo impidì Dio's perdono è piccato mi ti un copo io si non mi mi trovi caratter che è la Dio's attuco è fina e ancora in questo tempo, a passare del humilde, Dio ha ancora un cammino per lui. Per lui ha chiesto di perdonare, lui ha morto in Cristo, lui ha mirato la terra primitiva per lui, per lui ha risultato. Per lui ha chiesto di perdonare. Sì, sì, non ha chiesto di perdonare per ora. Per lui ha chiesto di perdonare. Sì, per lui ha chiesto di perdonare. Per lui, per esempio, di Dio, 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 di Dio. Ok, versicolo 9. Versicolo 9 dice, ma è Arcangelo Miguel, ora che aveva pleita con il Dio, e aveva discutito quanto è la cura di Moises. No a trivi pronuncia un vicio di maldizione contro Dio, ma avisa al Signore, reprendevo. Ma è vero, quindi, un Dio è capace di Dio, di Dio, per l'A accetta di Do, per l'A accetta di Dio. E' vero, ma è vero, lo vedo? C'è vero, ma è vero, è vero? Anche se è il diablo e se serve una cosa che si dice di lui, ma non si ha rispettato, ma non si ha rispettato, ma non si ha rispettato. Sì, non si ha rispettato, se vuoi dire una parola, non si sa come una parola. Sì. Sì. Questo è un buon pide, Paolo, perché, per spiegare il brato di amore, Paolo presenta Moises, con un buon carattere, ma di un pito, il diabolo pone faiato. Sì. Sì. Quindi, quando dice il diabolo, dice, dimenticare. Sì. 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 Questo è un buon esempio, di, 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 è l'honore di chiedere perdonare per la persona, questo è l'unica cosa, è l'unica di potercire così è, è nulla di altra cosa Dio che forma a noi per la vita eterna, è una formazione la santificazione della formazione, preparazione per il canale celestiale Sì, sì, sì Sì, sì Quindi, stiamo chiedendo, mi chiede un'altra domanda a base di questo nostro evangelio Quindi, la mia chiede è stata, che stiamo a vedere la gente e non è riuscita, non è riuscita e non è riuscita Non è riuscita quindi abbiamo bisogno di studiare di Bébel questo è buon signo, certo? sì, sì, è un floreo, ma ne buco e cosa non è vero, non è vero, non è vero, non è vero ah sì, non è ignorato il messaggio sì, sì, però non è vero, non è vero, non è vero beh, mi throwing thi una cosaлу da qua! mi sembra un messaggio e traditionally bello, non è vero o più ma ne è ninguém senti un regio di sociale a persona non ha risposto però sono scosello quello che ricordo però nella versione stava via siamo tanto è tempo per carta di vista portava la bocchetta, non mi ha detto il nome, la bocchetta è Michael, lo scusa, però Michael è stato un tiki, però è il giorno che non ti fa fare, mentre Michael ha fatto una orazione, è il giorno che non ti fa fare, Michael sta ascoltando, è stato molto con un interesse, quando dice che io sono un del anno, però è il Spirito Santo, ha il tempo con ogni di noi, e lei mi ha detto a me, lei mi ha detto a me, e lui mi ha detto a me, e lei mi ha detto a me, e lei mi ha detto a me, è un milagro è qualcosa, ma prima cosa è che il nostro tempo mi ha detto, anche noi non ti ho visto che, magari si tiene un effetto, ma si lo ha detto, se non mi ha detto a me, a me per contare un testempo, a me per contare, mi dice ma comisa che con andi arriva youtube graba Kiko però ti ora buon ting ora mi va per esempio un youtube channel di un otro end portavo da papi di Kikuta no via che Kikuta voi te mira ho non ti un mille view si 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 non ti mira non ti c'è mille subscriber mi va mi video e appena 10 centi di Kikuta e quindi si che Kikuta gasta corriente gasta energia e quindi io ho rispondevo io ho avuto una misa in Corso un brodo in Ulanda vieni e quindi mi conoscevo mi conoscevo mi conoscevo mi se mi ravoriva youtube e di a ok e di si mi te messagginan kubatresi nando bom mi te usano ando mi te predica na na mia iglesia si ando ecco i a mi dico ne ah ok bom bom gloria a dios ando di un bando mi te dice eh verdad eto nabo un forza toch pa epa si gino ma si pa sobra e dico e tambi a mensaje pa e tambi a comparti si voi vedete che non posso dire un esempio posso dire cinque anni e video dimmi ento io portavo qui video ad esempio mi revivano però io avevo treze ento posso dire treze a binti e ene jaya banda e binti jaya a treze na trinta jaya banda a mi te sigo mira cinco view però ecco si i cana già e vanda si 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 sicuro si si ora un escuche ta ma ne pa uno a sinne che te viena a otro che tu vai si e mandi e punta dainan dios te mostrami no steven sigi che cogo va dicendo si si a mi be mensaje pa sobra si bo timbo diez e nene a cada ve que diez e nene manda pa otro otro tiki tiki no sturta virun candidat corta banda mire arriva di bo per arriva sun que la va ebay e che ta parti mensaje tambe e enda tende vordi je tambe yes yes ma ne te ti un via tambe eh te ti un ende a metà studia coni eh ma mire di un campagna ento la elapceta jesus jaya banda ento qua unta abo me segui bene bautismo no abo tengo concivi padonea palabra ento ento evo jaya banda e si sago da seco bolanea palabra si si un da sembra e otro da cosecha cosecha un da mua e otro da si un da sembra e otro da mua e otro da cosecha yais yais ti me saque de co hermano o pibea va enemigo da masche sabimes astuto si enemigo da a eto si a nos ora abo studio coni enda tavo me sentate no final te enda bautista a cuture coni pero no te verdad puede ser si si pero puede ser no e punto ta dice si se va trabou dice si dice si dice si se va trabou tu la con dios si si puede ser hermano estuja con el estuja 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 vengis un dia de una campagna con amiguita tim otra persona ama predicar pero por da dios usamos gispa usa un palabra dentro de sermón que abu te acorre tu lo que hermana predica am astuja coni atene bautista que me hermana sembra a anto ame finalmente a of me omiser espiritu santo finalmente a usami para cosecha para cosecha yes anto ame ti mei quita pasa ame ti mei dice si 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 no ame gana nada nada e arma na bordo ame adori dios asine ame me engana nada anto obi bem dice ah ok 10 campagnes com a ten 30 gente bautista un de 30 en asale según mi tamis sermón pero da dios dice o 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 come a partire le tour come basta cammina oh the book a come come sabo monijay con etabisa come in anang cammina ang costatina a kita elai di sabato na buta domingo ando si dai e bukita hopi bomba da data pensare bebo che ferma come sarissi di quando te bukiki no stop program drug party e un dia come by mi ha scociato nang e poi abbiamo fatto un buchino, dove c'è un buchino, dove c'è un buchino e noi siamo in un buchino, così. E' un buchino, dove c'è un buchino, dove c'è un buchino. Abbiamo visto un buchino, ora che la mia amore dice, non sapevo se è il primo capitolo, o il prefacio, e mostrava quanto problema la mia amore va avere, ora è adesso scrivere l' buchino, Si, si, si.. Il c sentido con diablo l'abbarco ha fatto llamado male Basta un parte luna Sarà però Se possono holy che iluf horse ha PRÂ dozens di testi Quindi non lo banca Per questo non lo vem, non lo vanno P adoption κάndoleці Quindi fica bene e lo norco Devo Interesting ma io non ho detto, perché non ho detto, ma poi viene da l'America, California, Texas, tutti voi sono fatti, come l'Archia, in Colombia, mette le testemunio che non ho detto, ma sono riuscita a casa, i drogare, per aiuto, per ripartire, non ho fatto per cooperare. Sì, 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 ma ho fatto il vostro posto, vero? Si, questo è buono, questo è buono, ma io ho voglia di essere un gruppo di pazienti. Guarda qui, il mio amore è il mio fratello, ha fatto un po' di capitolio, in America e questo è parte del buco di conflitti. Si, si, il buco è buono, questo è il recurso. Non ho fatto bene questa persona, ma io ho impedi l'unico. Si, ho fatto unico, ad essere un'unico molto bene, come si tratta di fare un buco di cose, come un buco di indica. Io ho visto che il buco è buono. Ma io ho avuto quindi, ora ho fatto un buco, non ho fatto bene, ora non ho capito, ma io ho visto bene, perché ho fatto una buco di buco. che ci sono stati in questo mondo e in questo momento ci sono stati costanti profesi e quando mi ha detto che ci sono stati costanti a fare profesi di Dio. Mi mamma ha detto che non c'è la verità, ma la resta del buco, la verità è costante. Sì. Stéphane, noi siamo partiti del buco, noi siamo stati proprio partiti. No? Yes. Come, come stai un'unico entro con tutti altri? No, è idea tremenda. Mi da chiedere… La hermana dice, e apmi e poi dice, a mia mia mia, non so se avete un numero? Però, apmi… Si, usami, ti un paio di romanzi, anche se sei… e ora ci sono moltissime un'unità di meno stingere in maniera di maniera si per noi, per esempio, di fare questo si, si, si si, allora, prima di mio numero? si, mi sembrava così, quindi mi sembrava così mi sembrava così ah, sì, mi sembrava così ma di sì, non c'è un numero per ora, perché non c'è un numero però è meglio io, io ero in, noi abbiamo un set-up per il gruppo sì, è stato un giorno che mi diceva, mi conoscevo con i miei, mi conoscevo con i miei e un giorno mi diceva, un calendro, un posto, un posto, un posto, un posto che ci stavamo dentro con l'Elton Pass e io mi diceva? sì, sì quindi mi diceva, 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 mi dijo, comodo e 여자 mi diceva, mi diceva che mi diceva sì sì noi ci stavamo adventurando l'Elton Pass che mi diceva, ma stesseva stari vedola l'Elton Pass sympathy l'Emo pass Dassi sì Igualmente, sì. Bamboni. E' già domingos che trovi. Cuyos che, sì. Ma ti mangiare di un simang? No, è stato un miso d'una. D'un simang non è fia a un gizzi. Mi ha trezionato. Sì, sì. Sì, però è un miso. Non, c'è sabra. D'un simang, se non c'è sabra che ci sono. Sì, sì. Ayer non c'è il conflitto di i figli, non c'è studiare. Bamboni. Ok. È un buon. È un buon. È un buon. Bamboni. Ok. Ok. Sì, sì. Sì, sì. È un buon. Ok.